Il suo nome intero era Armando Gaviano della Santa Maria e noi ci parli di mezzo sudamericano. Invece si è nascita in Seu, in sub-23, e Santa Maria si è nominata di questa gente sua. La prima domanda, un apposento, è nata piccata in questa ruga del Palabanda. Tanto castello, ancora arrogato a questa guerra, il bombardamento del Su-43, via da prendendosi esse uesos.